Forte! Forte! E' che lui di qui riesce a fare la bolletta, l'altra parte va. L'avevo detto io. Com'è che era? Però secondo me è l'unico così fare con la ruota d'avanti impennato. No, prima zona zero, gli altri due e cinque. Però mi sa che è da fare così, con la ruota d'avanti su e fargli il gradino solo con la dietro. Zona! Eh, lì dovevi continuarla. Bravo! Adesso tutti che copiamo la tua tecnica. Ma se no se tu riesci a spostare il culo è l'ideale. Eh sì, o spostare o... voglio provare a farla con la ruota davanti alzata e fare il gradino solo con quella dietro. A tenerla tirata con Robo. Ah! 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 Ah!